Allora signori e signore, buongiorno, buona domenica, benvenuti a questo nuovo appuntamento della ottava edizione del Libro della Vita, un appuntamento molto speciale a cui teniamo moltissimo, io parlerò veramente per 30 secondi perché siamo qui non per me, naturalmente vi ringrazio per essere tantissime, prima di tutto vorrei rivolgere un grandissimo ringraziamento ad una persona che in questa città è un grande motore culturale della riflessione, del generale comunità che è Sergio Staino in prima fila qui seduto. Il Libro della Vita deve tantissimo a Sergio Staino e non solo, naturalmente grazie al sindaco, grazie all'assessore alla cultura e all'amministrazione che permette questa manifestazione ma soprattutto grazie alla nostra ospite, raramente ho conosciuto una persona di tale umanità oltre che professionalità, Giovanna Botteri ha fatto i salti mortali per essere con noi oggi, i salti mortali. È inutile che io la presenti perché la conoscete tutti meglio di me, Giovanna Botteri continua ad ostinarsi a fare quella cosa che tutti danno per morta che si chiama giornalismo e soprattutto si adopera per portare conoscenza e aprire mondi, per questo noi le siamo veramente grati. Giovanna Botteri, grazie. Ciao Scandici! Allora, quando Sergio mi ha detto vieni a Scandici e porta il libro della tua vita, io ho pensato sicuramente tutti si aspetteranno che porti qualcosa di duro, di forte, di rivoluzionario, di femminista, di, capito, queste cose da battaglia e invece il libro della mia vita è quello che è. Ho sbagliato, ho fatto qualcosa tra me, ho chiuso? Ma secondo me voi mi sentite uguale? No, no. Non ho mi sentito, no, va bene, meglio così. E invece oggi porto un libro che credo vi stupirà e che non vi aspettate perché è un libro che parla sostanzialmente e di amore. Perché è un libro che mi ha cambiato la vita? Allora, il libro è la Caterina di Heilbund di Henry von Kleist. È proprio romanticismo tedesco, Sturm und Drang. Allora perché? Devo anche raccontare il contesto, no? Non so se gli altri raccontano il libro che ti cambia la vita, il contesto, ma io sono, sono Triestina, quindi questo nord-est di frontiera, una frontiera che è tra occidente e oriente, molto, molto, molto Europa centrale come cultura, come tradizione ed è contemporaneamente molto, molto provincia. Quindi sono, sono nata in una città il cui il motto è non se devi, non se pol, non si deve, non si può. Quindi una città in cui in qualche modo il tuo destino, no? È segnato da quando sei nata. Si sa tua mamma, tuo papà, cosa hanno fatto, tu cosa farai, tu con chi ti sposerai, dove andrai a stare, è tutto molto segnato. Gli anni in cui naturalmente comincio a leggere, sono gli anni in cui tutto questo viene azzerato completamente, sono gli anni in cui ci sono le barricate e su barricate ci sono le bandiere rosse su cui c'è scritto voglio tutto. E di fronte a questa barricata con voglio tutto e questa educazione un po' del non si deve, non si può, uno si chiede che cos'è questo tutto che voglio. Voglio cambiare il mondo, voglio renderlo più giusto, voglio farla pagare ai padroni, voglio giustizia per chi soffre, voglio la pace e alla fine scopro e leggo questo libro. Questo libro ha anche lui una storia. In quegli anni, attraverso mio papà che si occupava di teatro, noi scopriamo quello che è un teatro abbastanza sconosciuto finora in Italia, quello che si faceva a Praga, quello che ci faceva nell'est chiuso da quella cortina di ferro. Quindi comincia ad arrivare un tipo di cultura, von Kleist è tedesco, quindi non appartiene a quella parte della cortina di ferro, ma è in qualche modo una cultura che comincia ad arrivare. Questa è una pièce teatrale e quindi io arrivo a questo libro e questo testo, che è un testo di inizio 1800 fatto da von Kleist che in qualche modo è l'Anti Goethe. Perché l'Anti Goethe? Perché è giovane e racconta qualcosa che a me ha subito in quegli anni colpito, racconta tutto attraverso questa visione del sogno. La Caterina, protagonista della pièce, vive in qualche modo sospesa fra due mondi, quello del reale e quello del sogno. Ma che cosa vuol dire il sogno dell'inizio del 1800? E nessuno più di una ragazzetta che vive in una città dove non si deve, non si può, sa che cos'è il sogno. Il sogno è il desiderio, che è il motore di tutto. Il sogno è quello che ci spinge a lottare, ci spinge a cambiare, ci spinge ad andare avanti e ci dà la forza per non mollare mai. Questo è il sogno. Anche se von Kleist lo racconta 60 anni prima dell'arrivo di Freud, che di questo sogno ha fatto un altro percorso. Ma insomma, quello è tutto il mondo, è il mondo a cui appartiene anche la mia città. E quindi arriva questo in cui c'è la storia di questa ragazza, figlia di un piccolo fabbro del paese, che improvvisamente vede entrare un principe nella bottega del padre e ha una visione, un sogno, che lei sposerà quest'uomo. Lei non appartiene al mondo di quest'uomo, non appartiene perché è socialmente di una classe molto più bassa, perché è una donna, le donne non scelgono, le donne non fanno, vive in un piccolo paese. Ma c'è questa cosa del sogno che è il motore che dentro di noi, dentro il nostro cuore continua a farci andare avanti. E nel sogno c'è l'amore. Lei ama, ama quest'uomo. E l'amore, perché questo è un libro sull'amore e la forza dell'amore. La forza dell'amore è qualcosa di incredibilmente straordinario, perché è qualcosa che va sopra, va sopra le differenze sociali, va sopra le differenze etniche, politiche, ideologiche. E lo porto qui da voi oggi, che siamo di fronte ad una guerra, perché penso che in questo momento, e mai come in questo momento, noi dobbiamo parlare di amore, non dobbiamo parlare di odio. Dobbiamo parlare di amore e di forza dell'amore, perché è l'unica che in questo momento di divisione, di odio, di contraposizione, in questo momento in cui sembra che non sia possibile più vivere assieme, in questo momento in cui sembra che gli amici di un tempo siano diventati dei demoni, per usare un'altra figura classica della letteratura di quelle parti. Ecco, io penso che in questo momento noi dobbiamo parlare di amore, perché? Perché l'amore è quello che ti fa trovare il terreno, il terreno su cui incontri e su cui ti confronti e su cui poi ti unisci a qualcuno di molto diverso da te, da cui ti può dividere tutto, ti può dividere un confine, ti può dividere un paese, ti può dividere una classe sociale, ti può dividere una razza, un genere. L'amore è una forza e una potenza incredibile e io credo che in questi ultimi anni, forse decenni, siamo stati alimentati da mille cose, dal bisogno di essere amati, però perché sei ricco, perché sei popolare, perché sei bello, da questo bisogno assoluto di potere, di affermazione, da questo delirio d'immagine. Ed è come se ci fossimo dimenticati la forza e la potenza dell'amore. Ma attenzione, l'amore è grande, assoluto, quello che perdona e che comprende, non l'amore violento, perché l'amore di Caterina è un amore grandissimo che alla fine, di fronte al principe, è capace di rinuncia, è capace di generosità incredibile e anche questo, credo che in questo momento di violenza, in cui abbiamo vissuto chiusi nelle case per la pandemia, in cui ci confrontiamo per la prima volta di fronte ad una guerra terribile che potrebbe arrivare anche da noi e in cui ci confrontiamo nello stesso tempo a questa violenza nella nostra società. Ieri guardavo i dati e le cifre, ad esempio, sui femminicidi, questa idea di amore che è diventato odio, questa idea di amore che è diventata violenza, possesso, soprafazione. E allora io voglio di parlare dell'amore di Caterina, che invece è l'amore assoluto che cambia il mondo, che lo rende più giusto, che lo rende più buono e che vince soprattutto, perché la cosa che mi piace di von Kleist e di questo suo racconto, che è uno degli ultimi, von Kleist si è ucciso a 34 anni, quindi la sua vita non è stata così fortunata come quella della sua Caterina. Ma quello che mi piace è parlare oggi, in questo momento, in questa situazione della nostra storia, mi piace parlare di amore e della forza dell'amore. La forza dell'amore che Caterina in qualche modo usa attraverso questo suo sogno, che è quello che giustifica questa sua folle avventura per questo uomo che a malapena la conosce e per cui, ed è la seconda parte del titolo, è la prova del fuoco, per cui passerà due prove del fuoco vincendo. E questa cosa per me, ragazzina, nella provincia, è stata incredibile, è stata incredibile perché mi sono resa conto che la macchina dell'amore poteva essere qualcosa di più forte di tutto e che quindi quando c'erano quelle bandiere rosse con vogliamo tutto, che cosa vogliamo? E io ho detto io voglio amore, voglio amare, essere amata e voglio che questo diventi un modo di rapportarsi con gli altri, anche nella lotta, perché Caterina lotta, ma si lotta per amore, non si lotta per odio, non si lotta per sopraffazione, non si lotta per soldi, per… e quindi quando Sergio mi ha chiesto, guarda devi portare il libro della tua vita, quello che ti ha cambiato, io ho portato questo libro e oggi da voi sono venuta per parlare e per dire di quanto è importante oggi, oggi, in questo momento, di fronte a quello che succede, parlare di amore, parlare di amore, l'unico terreno su cui noi possiamo costruire la pace, l'unico terreno su cui noi possiamo andare incontro all'altro, anche quando l'altro è il nostro nemico, anche quando l'altro è diverso da noi per religione, per cultura, per genere, per qualsiasi cosa, l'amore è quello che costruisce questo terreno magico, incredibile, dove è possibile non solo costruire la pace, ma costruire il futuro, che è quello che noi vogliamo oggi e adesso, un futuro che sia migliore e più giusto e per tutti. Sì, molto rapidamente. No, non ti preoccupare, figurati, guarda, dopo tutto quello che ho avuto non posso prendere più niente, non ti preoccupare. L'amore sa anche molto alle volte di atto unilaterale, cioè io in questi giorni penso molto, ne abbiamo parlato con Guido Alberto Bormolini l'altra domenica a Gandhi, cioè è anche quella potenza morale e anche fisica in qualche modo di decidere di fare una cosa, cioè io decido di amare, tu mi spari, mi bombardi, mi torturi eccetera eccetera, ma io continuo ad amare, è molto difficile questa cosa, andrebbe insegnata forse nelle scuole, ci vorrebbe una materia come non violenza, rispetto della vita e altre cose del genere, non lo so che pensi, anche in riferimento a questo libro. C'è una parola che ricorre moltissimo in questi giorni e che su cui forse bisognerebbe anche discutere, riflettere e che è coraggio. Mi fa un po' paura perché è una parola che si usa quando ci sono situazioni di guerra, no? È un po' romantico, il coraggio. L'amore ti insegna che il coraggio, quello vero, è alzarsi ogni mattina e affrontare la giornata, il coraggio è affrontare il mestiere difficilissimo di madre, di padre, di figlio, coraggio è andare andare al lavoro, cercare il lavoro, coraggio è studiare, coraggio è rapportarsi con gli altri senza violenza, senza astio, senza volontà distruttiva, questo è il coraggio. Il coraggio non è prendere le armi e sparare sul nemico, il coraggio è vivere al meglio e come giusto la vita quotidiana. Quindi in qualche modo l'amore è coraggio, l'amore inteso nel senso cambio clamoroso di microfono, in cui l'amore è questa cosa che ci fa vedere l'altro come un essere umano come noi, non più come il nemico, come l'estraneo, ma come qualcosa che in fondo ha con noi tanto in comune. Quando tu dici, no? In questo momento l'altro mi spara, l'altro c'è un passo che tu devi fare, perché? Perché succede questo? E Katrin Kahn lo fa, perché? Perché succede? Che cosa c'è? Devi andare alla scoperta dell'altro con coraggio, anche qui ci vuole coraggio, ci vuole coraggio per andare verso gli altri, per conoscere gli altri. E l'idea della conoscenza è un'altra idea che ha molto in comune con l'amore. La conoscenza è la presa di realtà dell'altro, che qualcuno di diverso da noi, che magari ha sogni e aspettative diverse dalle nostre, che vuole cose diverse dalle nostre e con cui per amore costruiamo un terreno comune, neutro, in cui ci siamo noi con le nostre diversità, ma c'è anche questa cosa che possiamo costruire assieme, quasi da zero. Quindi l'idea di amore e un amore, soprattutto l'amore romantico di Von Kleist, non è in qualche modo il porgi l'altra guancia, ma è cercare entrambi di capire perché uno ti colpisce e capire perché non deve farlo. E quindi costruire qualcosa di estremamente difficile, perché l'amore ti dà la forza per costruire qualcosa di estremamente difficile che la vita a due, a tre, a dieci, a mille, a un milione, a un miliardo, a dieci miliardi come siamo noi della terra. Ma se non c'è questa base, l'amore è quello che ti porta a dire è inutile che io abbia dieci e tu zero, forse è meglio che abbiamo cinque e cinque e tutti e due. L'amore è quello che ti porta a lottare per la giustizia perché tu non puoi essere felice se tu hai persone che soffrono vicino a te. Tu non puoi arroccarti nel tuo castello meraviglioso quando fuori dal castello la gente bussa e ti chiede pane o acqua. Quindi c'è questa idea che è più pragmatica che se vuoi religiosa dell'amore, quando tu dici se mi fa del male rispondo con. C'è un tentativo di costruire un ponte verso l'altro e non un muro di protezione. Questo è un esercizio del quotidiano, un esercizio che facciamo tutti i giorni, che dobbiamo imparare a coltivare tutti i giorni perché, come dire, la guerra è tremenda proprio perché cerca di eliminare questo discorso che stai facendo. Cioè sì, prima o dopo, ma non durante. Ora c'è la guerra. In questi giorni che abbiamo parlato del trentennale dell'inizio dell'assedio di Sarajevo e abbiamo ricordato ad esempio la strage del mercato che tu ricordi benissimo. Di fronte a quel sangue l'amore dove va? Allora, quello è... Io proprio c'ero a Sarajevo nel giorno della strage del mercato e poi ho seguito bene e anche quella è una storia che mi appartiene perché quando ti dico sono di una città di frontiera quella è la frontiera nostra, parte della mia famiglia viene esattamente dai Balcani, quindi anche là posso fare un discorso molto forte, per esempio metà della mia famiglia, quella da parte di madre e Serbo Montenegrina che sono quelli che hanno sparato sul mercato di Sarajevo. Che cosa vuol dire? Vuol dire che tu devi in quel momento smontare la costruzione e guardate questo è dannatamente importante in questo momento smontare la costruzione dell'odio perché c'è qualcuno che sta veramente costruendo ad arte odio e che ogni giorno metti più il metti sulle nostre teste e armi nelle nostre mani. L'amore vuol dire sgretolare questa costruzione che si alimenta, si alimenta con le false notizie, si alimenta con le false immagini, si alimenta con le false voci. Per me ad esempio costruire la pace rispetto alla Bosnia, racconto questo. Io ho seguito la guerra in Bosnia e sono stata a Srebrenica prima dell'assedio e poi sono stata tra Zenica e Srebrenica su quelle colline dove sono stati sepolti tutti gli uomini uccisi nella strage. e ne parlo con un'amica che vive in Italia da tantissimi anni, serba di Belgrado, una cara amica che lavora nel cinema e che sta in Italia da 40 anni e lei mi dice Srebrenica non è mai accaduto, è falso, è una notizia falsa e io le dico guardami, guardami negli occhi, non te lo dico di seconda mano, io ci sono stata e io ho visto. L'amore è affrontare questo perché tu non riesci a costruire un mondo di pace se tu non fai saltare questo muro. Tu non puoi costruire un mondo di pace quando dall'altra parte del muro c'è chi ancora crede che Srebrenica non è avvenuta, che Saddam era dietro agli attentati delle torri gemelle e questo è molto importante perché noi adesso dobbiamo pensare alla pace. La pace non la costruisci se anche i russi non sanno quello che è accaduto a Buccia. Guardate che questo è importantissimo, noi oggi dobbiamo arrivare alla pace e costruirla perché il nostro futuro, il futuro dell'Europa, il futuro del mondo ma si fa solo assieme, non si può costruire sulla menzogna, non si può costruire sulla menzogna, tu devi poter avere con il tuo nemico, quello che è stato il tuo nemico, un vero, confronto. Io devo dire il mio mestiere è un mestiere meraviglioso e non ringrazierò mai abbastanza di chi me l'ha fatto fare almeno finora. Io ho seguito per esempio in Sudafrica il Tribunale della Verità e della Riconciliazione voluto dal Nobel Desmond Tutu e ho sempre pensato che quello fosse fondamentale per i Balcani e quello fosse fondamentale ma anche per l'Europa perché l'Europa chiude la Seconda Guerra Mondiale con il Tribunale di Norimberga. I Balcani si chiudono con una pace che è una pace fragile. Il Tribunale della Verità e della Riconciliazione non è un tribunale che ti condanna ma è un tribunale che assieme vinti e vincitori, sconfitti e vittime e carnefici aiuta ad affrontare la realtà perché la realtà è la cosa più terribile e la realtà purtroppo è grigia, non è bianca, non è nera e grigia ti aiuta ad affrontare il fatto che nessuno dei due ha completamente ragione e nessuno dei due ha completamente torto. Ma la presa di coscienza di questo ci aiuta a costruire la pace, soltanto questa, la menzogna, il malinteso, il non voler guardare e il non voler sapere non ci aiuta a costruire la democrazia. Io penso per esempio che questo non sia un cammino che l'Italia dopo il fascismo non ha fatto a sufficienza. Guardarsi negli occhi, guardarsi negli occhi e capire, capire cosa è successo perché bisogna sapere cosa è successo, affrontare, affrontare perché se no ci ritroviamo oggi con la storia che sembra essere tornata dietro di 50 e 60 anni non è possibile. Cioè l'Europa che di nuovo sente parlare di nazismo, l'Europa che sente di nuovo parlare di dittature, l'Europa che si chiede che cosa sia la libertà di pensiero. Ecco io credo che questo lavoro terribile deve essere fatto ma deve essere fatto per noi e il nostro futuro perché nel nostro futuro deve esserci libertà non dittatura, deve esserci democrazia e non fascismo nazismo, deve esserci libertà di espressione e non quello a cui assistiamo adesso. Ecco io credo che in questo, anche in questo, parlare di amore sia in qualche modo una forza per, quasi spostare, come se nel mezzo di questi orribili talk show in cui la gente si dice queste orribili e inutile cose, improvvisamente uno fermasse e dicesse no e spiazzi tutti perché togli questa cosa dell'odio, della contraposizione che ci fa male, che è inutile e che non ci aiuta a crescere. Noi non abbiamo bisogno di nemici, abbiamo bisogno di amici. Ricordo una trentina di anni fa a Kiselyak, mi sembra, alle porte di Sarajevo, a Kiselyak scusa, eravamo in una scuola e ci fecero vedere le immagini dell'uso del gas nervino a Sarajevo. Erano immagini false, lo avremmo scoperto poi il giorno dopo. Anche in prossimità le notizie false sono lì, si dice sempre la solita battuta in guerra, la verità è la prima a morire, eccetera, eccetera. Figuriamoci ad una distanza maggiore, come si fa a fare il tuo mestiere durante una situazione come questa qui, dove c'è la censura del caos, la chiamano alcuni studiosi. Abbiamo così tante notizie che è diventato impossibile distinguere quelle vere da quelle false. Era Ivo Andric che diceva che nella guerra la prima vittima è la verità. La verità è importante perché ci aiuta, perché la cosa più terribile, a me ad esempio la cosa che in questo momento fa una paura terribile è questa silenziosa quotidiana escalation verso quella che sembra una guerra e in cui ogni giorno, ogni giorno fai un passo avanti verso quella che sembra una guerra e una contraposizione. Ogni giorno impercettibilmente c'è un passo avanti verso una contraposizione, c'è un passo avanti nel scavare un fossato che è sempre più profondo ed è sempre più grande e io penso che l'amore ci può salvare ma la verità sicuramente aiuta. Allora anche là voglio farvi un esempio. Baghdad, bombardamenti americani, Al Jazeera dà la notizia che gli americani hanno bombardato un ospedale pediatrico, una maternità in cui sono stati uccisi i bambini, i prematuri che stavano nella sala nelle incubatrici e quindi una cosa lo dice Al Jazeera, ovviamente lo dice ad un mondo arabo che ha un effetto devastante. Ora io ho sempre pensato che l'invasione americana dell'Iraq fosse un tragico errore storico fatto per interessi che certamente non riguardavano la protezione dell'Occidente, quando lo dicevamo al Tg3 eravamo a Telecabul, poi per fortuna c'è stato un presidente degli Stati Uniti che l'ha detto e quindi in qualche modo non siamo più stati a Telecabul. Ma ecco, no, per dire come, voglio dire, il mio giudizio su quello che stava avvenendo e sui bombardamenti americani era abbastanza preciso. Comunque siamo a Baghdad e corriamo immediatamente all'ospedale e scopriamo che l'ospedale è stato evacuato da almeno tre mesi e che quindi è tutta una bugia. Allora quello che io voglio dire è non toglie niente al fatto che l'invasione americana e che i bombardamenti americani fossero sbagliati e hanno portato al disastro. Non toglie niente. Questa è una realtà storica ma è importante all'interno di questo ed è il mio mestiere, il mio dovere, quello che devo fare. Ristabilire, ristabilire i confini e ristabilire questa dannata verità, di stabilire questa dannata verità. In questo momento rispetto a quello che sta succedendo noi abbiamo bisogno, abbiamo bisogno di sapere che cosa sta succedendo. Ci stanno portando in guerra, dobbiamo sapere cosa sta succedendo. Abbiamo il diritto e noi dobbiamo portare questo e dobbiamo farlo senza essere strumento di nessuna propaganda perché noi siamo quello che tiene al boia la mano dietro la schiena. Noi siamo quello, così chiamavano gli americani durante la guerra del Vietnam i giornalisti, quelli che tenevano le mani dietro la schiena perché il giornalista deve tenere al boia le mani dietro la schiena perché non compia il suo efferato assassino. E questo dobbiamo fare noi e non dobbiamo dimenticarlo mai. In questo momento così difficile, così terribilmente pericoloso, il nostro compito è ancora una volta quello per cui Ilaria, Miran e tanti dei nostri sono morti. La verità. Stiamo parlando di cose non semplici questa mattina. Credo fosse Pulitzer a dire se esiste una libertà di stampa sta nella mia possibilità di dire al mio pubblico quello che non vuole sentirsi dire. In Italia è difficilissimo. Purtroppo sì. Torno all'amore. È questo che è diventato sempre più difficile. Ognuno cerca l'informazione che conferma le sue idee, che conferma le sue posizioni. Io ti dico la verità sono più di vent'anni che vivo fuori dall'Italia ma mi spaventano certe cose. Ad esempio mi ha spaventato vedere a Trieste la forza del movimento Novax. La colonna del movimento Novax a Trieste sono stati portuali. Ai miei tempi i portuali erano il servizio d'ordine, il PC, quello che mi hanno salvato una marea di volte da prendere una barca di botte. Ma che cosa è successo? Allora io ho bisogno di capire. A me non interessa di vedere adesso il portuale diventato come nemico. Non mi interessa questo. Non fa bene, non serve, non mi porta niente, non costruisce niente di buono. Io devo capire perché siamo arrivati là e devo capirlo come siamo arrivati là per fermare questo dannato, insisto su questa parola dannata, questo dannato meccanismo in cui ci contrappone e in cui ci allontana. Cioè io ho bisogno di questo, io non voglio, ma c'è, ma che cazzo me ne frega a me di Orsini? Zero! Però io voglio, io voglio, io voglio la possibilità di parlare come stiamo parlando noi adesso, calmi, civili, trasparenti, senza così, perché anche questa è la libertà. Dopodiché scopri uno che pensa una cosa sbagliata, che dice una cosa sbagliata e può essere che nel confronto, come si diceva una volta democratico, ci sia anche un ripensamento e questa è una cosa giusta e questa è una cosa utile. Vedi che torniamo sempre all'amore, ma è vero che tu dici è difficile, però se noi non abbiamo la forza e il coraggio di fare questo, noi non riusciamo ad andare avanti. Io ho un amico che ha fatto i Balcani con me, che è diventato uno scrittore che si chiama John Hatzfeld e che ha lavorato nel Centrafica su tutte le stragi terribili del Rwanda e quindi ha raccontato questa cosa terribile delle stragi del Rwanda e poi ha avuto il bisogno di andare a sentire l'altra parte, i massacratori e guardate, è una cosa importante questa e mi sento dire non puoi mettere sullo stesso piano lo stupratore e la persona violentata, ma non è così, non è così perché lo stupratore e la persona violentata finiscono in un tribunale in cui lo stupratore è condannato alla prigione e la persona si ricostruisce una vita. Qui stiamo parlando di persone che devono continuare a vivere assieme perché su questa terra noi dobbiamo continuare a vivere assieme, non ci sarà un tribunale che mette in prigione qualcuno e che permette all'altro di vivere un'altra vita, in questo paese, in questa Europa, in questo mondo noi dobbiamo vivere assieme e dobbiamo capire che dobbiamo vivere assieme tra bianchi e neri, tra ricchi e poveri, tra est e ovest e quindi noi dobbiamo costruire su questo una strada di verità che ci aiuti almeno ad avere questo terreno, questo terreno comune in cui nessuno debba far violenza all'altro e nessuno debba subire la violenza dell'altro, ma è un lavoro difficile e noi per esempio che siamo qua dobbiamo ognuno da oggi costruire questa trincea di pace perché la pace passa per ognuno di noi, per quella piccola resistenza che ognuno di noi con forza, con coraggio, con amore è capace di fare. Se ci sarà la pace sarà perché noi, ognuno di noi con il suo sacrificio, il suo amore e il suo coraggio l'avrà costruita perché alle volte basta poco, basta quel momento in cui fermi, in cui invece di dare un cazzottone a uno che dice una cazzata, che tu sai che è una cazzata, fermi quella mano a pugno e cominci a fare questa cosa meravigliosa che sto facendo io da mezz'ora e che è parlare e che è confrontarsi anche con il rischio, con il rischio che qualcuno ti dica guarda veramente non sono assolutamente d'accordo, guarda ti sbagli, però questa è la strada e non il crescendo, il crescendo di odio, il crescendo di antagonismo. Questa è una cosa pericolosissima. Pensate quello che ci hanno raccontato i nonni della seconda guerra mondiale, come si sono trovati improvvisamente in guerra quando facevano quello che facciamo noi normalmente, la spesa, la cena, a che ora torni e improvvisamente in questa quotidianità banale violata da un dramma e da una cosa orrenda come la guerra. Noi che abbiamo visto che la guerra è molto vicina perché è dall'altra parte, è davvero dall'altra parte, poi a Trieste era davvero a qualche chilometro, sappiamo quanto questa pace e questa possibilità nostra di vivere in pace e con amore sia legata a un filo e noi teniamo quel filo, noi, noi teniamo quel filo fra le mani e quel tenere il filo fra le mani vuole anche dire l'indomani quando ci chiedono cose su cui noi siamo d'accordo, fare sentire la nostra voce, fare sentire la nostra voce perché a me è stupito, nell'Iraq ho visto milioni di persone in piazza chiedere la pace e oggi c'è meno voglia di pace, guardate che quel filo è nelle nostre mani perché noi abbiamo la democrazia, la democrazia vuol dire che il filo è nelle nostre mani e che quindi dobbiamo tirarlo quel filo quando vediamo che ci porta dove non vogliamo andare. Abbiamo esattamente cinque minuti, lo sai che Sergio Staino prese il posto di Margherita Ack nella presidenza onoraria dell'Unione Atei Agnostici Razionalisti Italiani, è follemente innamorato di Papa Francesco. Non ci sono, a parte Papa Francesco, quei grossi nomi che noi abbiamo visto nel Novecento, quelle donne e quegli uomini che ricorderemo per sempre, prima in Sudafrica ho pensato immediatamente a Mandela, oggi c'è un po' di deserto da questo punto di vista, non so se sei... Tu pensa a Mandela, esce dopo che l'hanno murato vivo in una prigione e con quelli che l'hanno murato vivo nella prigione costruisce un paese, perché? Perché questa è la pace, questa è la visione, tu sai che con il nemico devi costruire e come costruisci? Soltanto nella trasparenza e nella verità. Papa Francesco ha una visione di un mondo in cui dobbiamo vivere tutti assieme, in cui dobbiamo vivere tutti assieme, ma noi non abbiamo nessuna voglia di costruire un nuovo muro di Berlino, noi non abbiamo nessuna voglia di costruire nuovi blocchi, dobbiamo costruire un muro con la Russia, un muro con l'Africa perché non arrivano gli immigrati, un muro con quello perché è così, ma che cosa facciamo? Ci stiamo costruendo una prigione, ci stiamo costruendo una prigione perché poi scopriamo di essere in prigione e il mondo è molto più grande e il Papa in questo momento parla di pace con quella visione che va oltre, cioè oltre, la pace la devi costruire, è inutile e noi sappiamo per esempio che la pace nei Balcani è una pace molto fragile, che a un certo punto se i carri armati russi non avessero trovato quello sbarramento di fuoco in Ucraina potevano continuare fino alla Serbia, che cosa succedeva? Che cosa succedeva? Perché la pace è fragile, perché la pace è fragile. Noi dobbiamo costruirla, quella pace. Con Sergio abbiamo un amico che ricorda sempre come l'Europa, in realtà si parla del fallimento dell'Europa, come l'Europa si è fallita a Sarajevo quando noi non abbiamo difeso i musulmani europei, quelli di Sarajevo, musulmani moderati con cui viviamo, li abbiamo lasciati da soli a marciare per la pace quel 6 aprile del 1992, li abbiamo lasciati da soli a marciare per la pace, li abbiamo lasciati da soli quando i cecchini hanno cominciato uno, due, tre, quattro ad ucciderli. Non bisogna lasciare solo chi marcia per la pace, dobbiamo essere tutti assieme, quindi Papa Francesco con lui sicuramente fino alla fine. Giovanna, grazie davvero per esserci venuti a trovare. Anche con questo libro fai sempre il tuo mestiere, ci apri dei mondi nuovi. Soprattutto vi dico che sono una romantica, dice ma la Botteri, una femminista, una comunista, una rivoluzionaria, io sono una romantica, quindi questo è la vera cosa. Se vi chiedono ma la Botteri com'era? Una romantica. Grazie, grazie davvero. Ci hai detto parole preziosissime oggi. Veramente un grandissimo applauso e riconoscimento per Giovanna Botteri. Grazie a voi. Grazie. 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 Grazie.